Si parte con il secondo giorno? Yatta! E muniti delle più moderne tecnologie andiamo a cercare questo negozio Ho per la cronaca, sono le 9-10, tutto chiuso E ora? abbiamo avuto la spiacevole sfortuna di incontrare degli altri italiani probabilmente terroni siccome noi siamo nordici proprio di quelli e non sudici a noi i terroni ci fanno schifo e quindi a sentire faccio spostare l'utezio sotto all'albero che ci facciamo la foto ci è venuta l'orticaria e ce ne siamo andati allora se non ci fosse tutto questo vento sarebbe a me piaccia il vento così abbiamo appena finito di sentire l'inizio della preghiera sentivamo o stavano mangiando quando è buono madonna guarda quanta gente che c'è di là via non so se vi rendite conto ok via parvis è per te ma che troppo guarda quesce non potevano fare una tanca per l'asca ci sono le reti prima c'era il vento del pesce ancora le reti e anche un po' mai male Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.